ciao ragazzi benvenuti nel milionesimo bug del gioco posso attaccare non posso attaccare no non posso attaccare volete vedere come sputtanarvi il ride volete vedere come sputtanarvi il gioco giocate giocate che il gioco vi si sputtana da solo il gioco non è giocare il gioco è indovinare dove sono i bug questo funziona io sono fermo qua da quando ho finito la seconda fase così niente le ho provate tutte auto base non va e niente siamo in bug come al solito è tutto ok non si può neanche uscire e quindi ditemi voi uno che cazzo deve fare un cristiano cosa deve fare ditemelo voi cioè io veramente sto gioco di merda veramente mi ha proprio rotti i coglioni porco di quali grazie 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 grazie